Ciao a tutti, oggi prepareremo le polpette con i piselli. Il tempo di preparazione della ricetta è di un'ora circa. Gli ingredienti sono carne tritata mista, bovino e suino, pisellini surgelati, uovo, pan grattato, parmigiano grattugiato, pecorino grattugiato, scalogno, olio evo, acqua, dado vegetale bimbi, sale, pepe, noce moscata e prezzemolo tritato. Andiamo via la ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale il tritato. Il pangrattato, il pecorino, il parmigiano, il sale, il pepe, l'uovo e il prezzemolo. Ed azioniamo il bimbi per 30 secondi a velocità 3. Il composto è pronto, formiamo le polpette. Prendere un po' di impasto e formare la polpetta e posizionarla nel baroma unto con un filo d'olio. Dopo aver formato tutte le polpette, mettiamo all'interno del boccale lo scalogno e lo facciamo tritare per 3 secondi a velocità 7. Riunire sul fondo del boccale con la spatola. Aggiungere l'olio e insaporire per 3 minuti a 120 gradi a velocità 3. Aggiungere i piselli ed azioniamo il bimbi per 5 minuti, 100 gradi, anti-orario, velocità soft. Aggiungere il dado, il prezzemolo, la noce moscata, il pepe, il sale e l'acqua. Chiudiamo con il coperchio senza il misurino, posizioniamo il baroma e facciamo cuocere per 28 minuti. Temperatura baroma, anti-orario, velocità soft. le polpette sono cotte, trasferire in un piatto da portata. Anche i piselli sono cotti, condire le polpette e servire. Polpette con i piselli. Grazie e alla prossima ricetta. . 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